Ciao a tutti, io sono Giovanni Marchetto e sono qui a presentare BuildRoot e Qt5 sui dispositivi embedded. In questa presentazione darò un rapido sguardo appunto a BuildRoot associata a Qt5 per creare dei dispositivi embedded che possono essere utilizzati su varie macchine eterogenee. Vediamo di definire un attimo cosa sono i sistemi Linux embedded, sono sistemi che sostanzialmente hanno limitata potenza di calcolo anche se questo nell'ultimo periodo non è propriamente vero, nel senso che c'è stato un notevole incremento di potenze sui processori embedded e normalmente venivano utilizzati per progetti specifici, quindi c'era una progettazione specifica in base al ruolo che doveva adottare il dispositivo. Hanno dei consumi ridotti e devono essere adottati dei sistemi operativi Linux o similari, molto leggeri ed ottimizzati perché appunto le risorse da gestire all'interno del dispositivo sono limitate. Io per il nostro progetto abbiamo verificato un attimo tutte le soluzioni che erano presenti sul mercato e tra cui abbiamo testato anche un modulo, un SOM denominato Aqua A5. Questo SOM è prodotto dall'ACME System che è un'azienda di Roma, monta una CPU SAM 5D31 a 536 MHz con 256 o 512 MB di RAM. Ha integrato una microSD e opzionalmente ha anche 256 MB di flash on board. Come vedete dallo schema, ha alcune interfacce SPI, ha fino a 6 porte seriali, alcune porte USB, uscita audio e interfaccia di debug integrata sulla scheda. Abbinata a questa c'è una scheda di valutazione che si chiama Berta A5 che è disponibile con display LCD da 4,3, 5 o 7 pollici con touchscreen resistivo che in questo caso se dovesse essere utilizzata come posto operatore è ottimo perché non necessita come il capacitivo della necessità di togliersi eventualmente i guanti. Adotta una Ethernet 10100 integrata, due porte USB, ha appunto il supporto al SOM Aqua A5 direttamente in piggyback e tutte le linee non utilizzate del SOM sono esposte su dei pad pitch del 100 mils. Vediamo un attimo Aqua A5 versus le altre schede general purpose embedded. Ce ne sono a decine, stanno uscendo veramente come non mai in questo periodo. C'è la Raspberry Pi 1, 2, 3, la Banana Pi, la BeagleBong che hanno performance decisamente superiori rispetto all'acqua. Hanno un gran supporto della comunità però hanno anche degli svantaggi. Se dobbiamo adottare appunto questi tipi di schede per un progetto a lungo termine non possono essere considerate perché nessuno dà la certezza di quanto vengano prodotte in termini di tempo. e quindi potreste trovarvi nell'eventualità che avete sviluppato un progetto e poi la scheda che dovete utilizzare appunto per questo progetto magari non è più disponibile oppure hanno fatto delle modifiche in hardware e quindi non è più compatibile con quello che avete appunto sviluppato fino adesso. L'Aqua A5 inoltre ha supporto all'extended temperature range quindi ha un range di temperatura esteso di utilizzo ha un supporto tecnico dedicato io mi sono trovato benissimo con questa azienda quando ho avuto dei problemi su delle interfacce e appunto dispone del DevKit che è il Berta A5 con addirittura tutti i progetti Altium disponibili quindi in questo caso se voi dovete prenderla come base di partenza per il vostro progetto diciamo è ottimo perché appunto avete a disposizione tutti i progetti Altium. Veniamo adesso ad analizzare BuildRoot innanzitutto perché è stato scelto di utilizzare BuildRoot perché se utilizzassimo una distribuzione Linux General Purpose andremo ad avere un sistema che non è propriamente ottimizzato per la board magari ricco di packages che in realtà per i nostri scopi non sono necessari e quindi verrebbe utilizzato lo spazio che magari è anche limitato si vanno ad aggiungere magari vulnerabilità non volute su packages che in realtà magari non vengono utilizzati per questo appunto è stato adottato BuildRoot perché in realtà è anche un sistema propriamente detto firmware generator perché permette a chi lo utilizza di crearsi in maniera molto agevola delle distribuzioni Linux custom adatte alla scheda e con i pacchetti necessari allo scopo che ci siamo prefissati è facile da configurare perché utilizza menu config, xconfig all'interno noi possiamo andare a selezionare i pacchetti che ci interessano è veloce, ci sono già 1600 packages disponibili e quindi a quel punto lì non abbiamo problemi quando andremo ad selezionare un pacchetto piuttosto che un altro di dipendenze non soddisfatte piuttosto che altri problemi che sorgono quando appunto si compilano manualmente dei sistemi è appunto altamente configurabile e la comunità è molto molto attiva e è dal 2005 che questo progetto è attivo quindi insomma ha un bel background da notare appunto che build root di contro ha alcune cose non ha un package manager quindi a questo punto quando noi andiamo a creare il rootfs che andrà installato sulla sd diciamo a quel punto lì non possiamo come siamo magari abituati con un apt-get scaricarci i pacchetti che eventualmente ci mancano inoltre non ha un compiler sulla target machine quindi quando noi abbiamo la necessità di un'eventuale aggiunta all'interno del nostro progetto dobbiamo riprendersi diciamo build root andarsi a selezionare i nuovi pacchetti che ci interessano e ripartire con il make e poi ricreare il rootfs sulla sd supporta una miride di architetture perché supporta ARM, x86, MIPS e PowerPC inoltre ce ne sono anche altre che non ho descritto la logica di controllo è stata fatta interamente in make e sono circa 1000 lighe di codice con 230 linee di commenti quindi è anche facile e compressibile se qualcuno eventualmente dovesse farsi delle modifiche o vuole adattarlo maggiormente ai scopi che si è prefissato come vediamo qui dalla figura si lancia make menu config adesso non si vede tanto bene lì ci sono tutte le varie opzioni che possono essere selezionate come il target, le build options, le tool chains perché in realtà lui è in grado di sì di crearci il rootfs ma in realtà ci offre anche la possibilità di crearci del tool chains compilare il bootloader e tutto quello che ci sta dietro diciamo tutto quello che viene effettuato dopo aver dato il make viene sparato fuori su una cartella che è output image a quel punto lì dentro abbiamo un file zip path tarrato diciamo è un tar.gz con il rootfs che poi andrà compiato sulla root file system io con AC5 ho adottato una politica diciamo un po' particolare nel senso che la board ha bisogno delle patch sul kernel e su build root per essere supportata completamente quindi abbiamo deciso di compilare kernel e bootloader separatamente e utilizzare build root solo per la creazione del root file system con tutti i packages che ci interessano come potete vedere qui associando build root a Qt5 su un sistema embedded abbiamo appunto la possibilità di creare un sistema interattivo uomo tra virgolette macchina in maniera molto semplice perché Qt5 è un application framework utilizzato per lo sviluppo di graphical user interface è cross platform utilizza C++ come linguaggio base e ha veramente tantissime librerie a disposizione inoltre essendo appunto in C++ la compilazione è nativa per l'architettura usata e quindi non abbiamo diciamo problemi di performance perché riusciamo a sfruttare al 100% la macchina target inoltre disponiamo anche assieme a Qt5 ti danno un designer che è Qt Designer che è ottimo per l'utilizzo in cross compiling e deploy diretto sul dispositivo embedded che stiamo adottando vediamo un attimo build root e Qt5 build root al suo interno integra già il packages Qt5 quindi praticamente basta solo ed esclusivamente selezionare quel packages e lui automaticamente creerà il root file system col Qt5 integrato senza nessun tipo di problema inoltre selezionando in questo caso dropBR SSH in maniera tale da poterci collegare sul SOM direttamente in SSH è possibile tranquillamente effettuare lo sviluppo del progetto direttamente in Qt Designer su un PC effettuare la cross compilation attraverso il compilatore interno alla macchina e poi effettuare il deploy direttamente sulla macchina target che in questo caso è il dispositivo embedded questo è un vantaggio non da poco perché in questo modo evitiamo di utilizzare delle distribuzioni all'interno della macchina target con compilatori che impiegano una vita a compilare perché ovviamente la potenza di calcolo seppur che è aumentata in questi anni comunque è limitata rispetto alla potenza di calcolo che possiamo adottare su un PC che possiamo trovare su un PC e con tutti i problemi che ci comporta lo sviluppo nativo diciamo sulla piattaforma che stiamo embedded che stiamo sviluppando quindi appunto andiamo a parlare dei vantaggi con build root e Qt5 possiamo generare un root file system in misura su misura in base alle esigenze specifiche del progetto che stiamo adottando possiamo sviluppare delle applicazioni con interfazze grafiche molto accattivanti ma allo stesso tempo molto performanti perché vengono compilate inattivamente sulla macchina target e attraverso la cross compilation come dicevo in precedenza è possibile sviluppare tutta l'applicazione su un PC stando comunamente tranquilli su un bel display senza nessun tipo di problema con velocità ovviamente elevate e fare direttamente il deploy da Qt designer sul target di destinazione ecco basta qui ci sono i riferimenti dell'acqua 5 di build root e Qt se avete qualche domanda ben lieto di rispondere prego ho visto che avete scelto di compilare il kernel diversamente perché dicevi che c'erano delle patch che bisognava perché non avete usato lo sistema di patch di build root perché fondamentalmente questa strategia è stata adottata più che altro non tanto perché build root non ti offre la possibilità appunto di usare il sistema di patching integrato ma perché il produttore del SOM ci ha consigliato visto che ha fatto anche delle guide di compilare il kernel separatamente con le patch che ci avevano dato loro perché hanno trovato la cosa più semplice noi per non complicarci diciamo ulteriormente la vita su una strada che era già battuta in questo caso piuttosto che trovarne una di nostra abbiamo appunto deciso di mantenersi su quella strada inoltre questo è stato dettato anche dal fatto che all'inizio non è che non abbiamo avuto nessun problema perché la build root utilizza il relativo kernel utilizzano i device tree e noi avevamo la necessità di utilizzare l'interfaccia SPI però il device tree dell'SPI era errato e ci siamo piantati lì e non riuscivamo più a risolvere il problema perché i device tree sono un po' ostici non c'è moltissima documentazione in merito il SOM era tra l'altro anche un SOM custom che produce appunto questa azienda quindi abbiamo perso parecchio tempo a effettuare il debug su quell'ambito lì poi niente prego le patch che hai nominato quelle che servivano il produttore del SOM sta lavorando per effettuare l'app streaming di queste patch o sì sono già disponibili e adesso io non lo so se sta già lavorando per l'app streaming sinceramente non lo so però tieni conto che comunque l'azienda come core business ha appunto lo sviluppo di queste board io non ho nessun interesse commerciale diciamo a proporre questo tipo di soluzione piuttosto che altre soluzioni solo che abbiamo notato che appunto quando si giochicchia con alcune board embed tipo raspberry piuttosto che orange pi o beagle bone black puoi lavorarsi sono veramente general purpose offrono una miriade di possibilità hanno una community molto attiva dietro però al punto in cui ti serve un sistema embedded professionale con un supporto a lungo termine che non varie negli anni disponibilità di un elevato numero di schede magari in tempi brevi e con un supporto tecnico che non dipende solo ed esclusivamente dalla community dal nostro punto di vista conviene appunto adottare soluzioni come queste seppur che a livello di performance sono nettamente inferiori rispetto a una raspberry pi o una orange pi o una banana pi come scusi i costi sono superiori allora sono leggermente superiori nel senso che il SOM costa 39 euro più IVA e poi c'è il dev kit però hai il vantaggio che appunto con il dev kit ti offrono tutti i progetti Altium già pronti ma il supporto è a pagamento no no ti danno supporto io in prima persona l'ho testato fondamentalmente ti danno supporto anche se acquisti una scheda ovviamente avranno anche loro delle priority fondamentalmente cioè se uno gli ordina mille schede ovviamente non è che come priorità hanno me che magari ne ho ordinata una però fondamentalmente danno buonissimo supporto sono reperibili telefonicamente quindi su progetti un po' più tra virgolette serio che magari devono andare in produzione anche perché ti danno la certificazione della board insomma su quegli ambiti lì diciamo il gioco vale la candela se dopo uno vuole vedere le performance pure e non gliene frega niente di nessun altro tipo di vincolo tipo che fra due anni non venga più prodotta piuttosto che cambi o piuttosto che la community non ti risponde in tempi celeri allora a quel punto lì conviene andare su schede più tradizionali tipo la Raspberry o robe simili ecco grazie sì se Billroot fornisce strumenti per creare in automatico un pacchetto un tarbol o qualcosa dei sorgenti con eventuali modifiche di parti usate sotto licenza GPL o simile che le richiedono cioè fammi ripetemi la domanda perché non ti ho seguito allora mi sembra che sia una cosa che ci fosse in open embedded che dei pacchetti Billroot sì che hanno una licenza che richiede di fornire i sorgenti a chi ha ricevuto il compilato ci fosse un modo automatizzato un modo automatizzato per ottenere una tarbol o equivalenti eh guarda sinceramente essendo che il problema non l'ho incontrato non ti saprei rispondere esattivamente penso ci sia la possibilità noi tra l'altro avevamo anche dato un occhio anche a Yocto Project che probabilmente conoscerete però diciamo la curva di apprendimento di Yocto è decisamente più più ripida è più lunga nel senso che è troppo per dei progetti non dico domestici ma comunque progetti in piccola scala perché lì veramente con Yocto offre una miriade di possibilità in più però sicuramente il punto chiave non è la semplicità nel senso che lì veramente devi avere un team di ingegneri che ti dà una mano perché cominci ad arenarti alle prime difficoltà è troppo esteso come progetto quindi Buildroot è più diciamo user friendly seppur con delle limitazioni che ad esempio anche quando vai a rimuovere i pacchetti devi fare il clean perché lui sennò te li lascia dentro non è intelligente se vai a aggiungere non c'è nessun problema se vai a togliere diventano possono essere appunto possono essersi dei problemi quello della distribuzione è un problema che vi dovete porre quando dovrete distribuire la storia sì quello sì però dipende da appunto come verrà distribuita e sotto che licenza e cosa andremo ad utilizzare anche dovrete se non altro distribuire sì dovrete se non altro distribuire sorgenti del kernel ci sarà dentro e tra l'altro con Qt5 diciamo c'è la versione community e in più anche un altro problema che mi sono accorto che stiamo ancora cercando di risolvere perché Qt5 su questa scheda non capiamo perché però con le shared libraries è lenta caricare anche un progettino piccolissimo e adottare le static library con Qt5 non è possibile senza violare diciamo i termini di utilizzo quindi sì c'è ancora qualcosina da verificare da lavorare adesso stiamo ancora sullo sviluppo avete usato build root anche con un sistema di contigual integration quindi magari faccio commit automaticamente un server mi fa la compilazione mi prepara l'immagine no sai se è possibile fare una cosa del genere senza sbatterci troppo sinceramente cioè possibile probabilmente è possibile questo probabilmente implicherà un bel po' di lavoro da parte tua quindi bisogna vedere se il gioco vale la candela non è possibile anche possibile però se parti ogni volta da zero sono comunque quelle due tre orette di compilazione perché mi parte a costruire tutta la toolchain esatto però se tu riesci a partire da uno stato condiviso in cui tutte le librerie sono già sono già buildate forse ce la fai a buildare solo la tua applicazione grazie mille per l'attenzione grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille